Per gli appassionati era John Steed, anche se Patrick McNeigh ha avuto una carriera televisiva e cinematografica ben più varia. È scomparso all'età di 93 anni, l'agente speciale con ombrello e bombetta della serie tv britannica degli anni 60. La famiglia ha fatto sapere che il decesso è avvenuto per causa naturale.